Il vostro amico è il vostro bisogno saziato, è il campo che seminate con amore e mettete con riconoscenza, è la vostra mensa e il vostro focolare, poiché affamati vi rifugiate in lui e lo ricercate per la vostra pace. Quando l'amico vi confida il suo pensiero non negategli la vostra approvazione, ne abbiate paura di contraddirlo e quando tace il vostro cuore non svetta di ascoltare il suo cuore. Nell'amicizia ogni pensiero, ogni desiderio, ogni attesa, nasce in silenzio e viene condiviso con inesprimibile gioia. Quando vi separate dall'amico non rattristatevi, la sua assenza può chiarirvi ciò che in lui più amate. Come allo scalatore la montagna è più chiara della pianura e non vi sia nell'amicizia altro scopo che l'approfondimento dello spirito perché l'amore che non cerca in tutti i modi lo schiudersi del proprio mistero non è amore, ma una rete lanciata in avanti e che afferra solo ciò che è vano. E il meglio di voi sia per l'amico vostro. Se lui dovrà conoscere il riflusso della vostra marea, fate che ne conosca anche la piena. Quale amico è il vostro per cercarlo nelle ore di morte. Cercatelo sempre nelle ore di vita, poiché lui può colmare ogni vostro bisogno, ma non il vostro vuoto. E condividete i piaceri sorridendo nella dolcezza dell'amicizia, poiché nella rugiada delle piccole cose il cuore ritrova il suo mattino e si ristora. Grazie.